Ciao a tutti! Riconoscete questa bontà? Oggi video ricetta delle treccine con crema, proprio come quelle del Mac. Per prima cosa prepariamo la crema per la farcia. Mettiamo a riscaldare 350 ml di latte con la scorza di un limone intero non trattato. Da parte mettiamo due tuorli, 50 g di zucchero e mescoliamo con la frusta. Tolta la scorza di limone, aggiungiamo il latte caldo e 30 g di farina. Mescoliamo energicamente fino ad ottenere un composto omogeneo e senza grumi. Rimettiamo sul fuoco e mescoliamo fino a quando la crema non diventerà bella densa. Quando la crema si sarà addensata, a fuoco spento, aggiungiamo anche una bustina di vanillina. Mentre lasciamo raffreddare la crema, prendiamo una pasta sfoglia rettangolare, dividendola prima in due parti e poi ogni parte in tre quadrati. Aggiungiamo al centro di ogni quadrato la crema. Aggiungiamo il centro di ogni quadrato la crema. tagli obliqui tagliamo la pasta in modo da poter ricreare una treccia. Prima di poterla infornare, bagniamo la superficie con del latte e spolveriamo con abbondante zucchero semolato. In alternativa si può utilizzare lo zucchero di canna per dare una colorazione più dorata alla sfoglia. A questo punto le treccine sono pronte per essere infornate. Le mettiamo in forno statico a 200 gradi per circa 25 minuti. Con una spolverata di zucchero a velo sono ottime sia per la colazione che per una merenda gustosa.